Lui ha fatto questa telefonata in diretta che mi ha lusingato evidentemente, però l'interesse che adesso abbiamo è quello delle europee, poi probabilmente avremo anche un grande possibilità per le politiche nazionali, perché secondo me il governo non ce la farà, ahimè, e poi penseremo alle regionali. Il fatto che abbia indicato il mio nome, ripeto, di lusinga, forse sono ancora il candidato che ha più voti, però come ho detto in diverse sedi credo che sia opportuno trovare una persona che possa avere anche più fame di quello che ho io, io penso che per il prestigioso incarico di candidato alla verità della regione possiamo trovare delle figure che possano dare qualcosa in più, io darò una grande mano e avrò ancora più voglia di cercare il candidato per evitare di poterlo fare io. Senta nel dubbio Balzani o Paita? Guardi, se dovessi affrontarli io vanno bene tutti e due, vinceremo tutti e due, ma perché sono partiti troppo presto, sono candidati secondo me deboli, dopo un candidato forte come Burlando, quindi noi facciamo la nostra partita, gli avversari poi decideranno chi è il loro candidato, ma non li vedo in salute perché vedo come hanno governato questa regione, una regione che non è presente a livello nazionale, una regione che ha perso da tutte le parti, dalla sanità, l'infrastruttura, la logistica, i servizi sociali e quindi io penso che la gente ormai capisca che è assolutamente il momento di cambiare. Grazie. Grazie, grazie.